Caos all'aeroporto di Los Angeles, dove un uomo ha tentato di far passare il proprio gatto attraverso la macchina, la GX, ai controlli di sicurezza prima di imbarcarsi. Il padrone, non possedendo l'apposito trasportino, aveva pensato fosse una buona idea trasportare l'amico felino all'interno di una borsa normale. Così, quando si è trattato di rimuovere il computer portatile, prodotti da bagno e altri oggetti per l'ispezione, il proprietario ha inserito il proprio micio nella borsa per farlo transitare in una delle casse bagagli. Il gatto ha dunque percorso tutto il tratto sul nastro trasportatore, prima che il personale di sicurezza potesse notare il tutto. Una testimone, Sara Benincasa, ha tweetato di non aver mai visto gli agenti di sicurezza così indignati, nemmeno quando coltelli o pistole erano stati scoperti all'interno delle valigie di altri passeggeri. Al momento del curioso incidente, all'aeroporto si trovavano due comici noti negli Stati Uniti come Sklar Brothers, che in seguito hanno trovato il padrone del gatto sul proprio aereo e le hanno scattato una foto poi condivisa su Instagram. La società che si occupa di sicurezza negli aeroporti americani spiega chiaramente sul proprio sito web che gli animali non devono essere fatti passare attraverso le macchine a raggi X. Al contrario, questi devono essere mostrati agli agenti predisposti per i controlli in modo che possano passare insieme ai proprietari attraverso il metal detector. Nonostante le molte preoccupazioni per la sicurezza del gatto, la quantità di radiazioni nelle macchine a raggi X dell'aeroporto è molto bassa e non ha pregiudicato la salute del passeggero a quattro zampe. Alcuni commentatori hanno scherzato sul fatto spiegando che è proprio in seguito a incidenti come questo che nascono supereroi o malefiche creature. Chissà se il gatto a raggi X ha sviluppato poteri paranormali.